L'episodio è successo ieri pomeriggio, mercoledì 28 agosto a Stabio, al confine con l'Italia. Un passatore è entrato nella Confederazione Elvetica transitando dal valico di San Pietro. A bordo aveva 10 persone stipate, ma è stato visto e inseguito dalle forze dell'ordine. Nonostante una caccia all'uomo che ha visto protagonisti, decine di agenti e poliziotti, l'uomo per ora è riuscito a far perdere le sue tracce. I migranti che trasportava invece sono provati, ma stanno bene.